buongiorno fanciulle dopo tanto tempo torno sul canale per registrare una video review allora è da tre mesi a questa parte che ho fatto un abbonamento mensile con la checks beats exclusive box che questa scatolina che vedete allora questo sito adesso non si chiama più così ma è stato rinominato craftica puntocom questo abbonamento praticamente lo potete disdire o attivare in qualsiasi momento perché comunque ripeto e mensile e se voi potete ci volete prenderlo un solo mese per provare date poi la la disdetta tranquillamente tramite il vostro account paypal e tutti i mesi in pratica lo stesso giorno viene effettuato il pagamento in automatico e vi viene spedita questa scatolina all'interno di questa scatolina trovate delle perle di vari tipi varie per linee varie forme e soprattutto sono tutte perle in vetro trovate anche dei componenti ma comunque ora apriamo la scatolina e vediamo insieme cosa c'è all'interno allora qui trovate il bigliettino con praticamente scritto tutto ciò che troverete all'interno della scatolina e qui c'è il nuovo nome del sito www.craftica.shop e il website qui ci sono i vari abbonamenti che voi potete fare ce n'è anche uno di una scatola già di gioielli in kit già pronti e poi vi mettono il calendario allora andiamo a vedere allora questo è il codice del prodotto ed è questa perlina ce ne sono diverse di diverse tipologie decorate in questo modo che anche solo mettendo un chiodino si può usare come pendente sotto un ciondolo o via dicendo allora mettiamola qua poi ci sono queste che sono le non li trovo le petal beats questo comunque il codice questi sono tutti i prodotti che potete tranquillamente acquistare sul sito e cioè il sito della pratica è veramente un sito infinito io ci ho perso una mezza giornata e non sono riuscita a vedere tutto ciò che c'era sul sito perché veramente hanno tantissimi tantissimi prodotti allora questo lo rimettiamo a posto dopo poi questi che sono comunque altri componenti sempre in vetro e sono in questa maniera qua lisci da entrambe le parti con il foro passante poi ci sono dei mezzi cristalli da 3 mm sempre sul rosso questo è il codice poi c'è questo carinissimo charm a cuoricino lavorato su entrambi i lati questo è il codice poi ci sono questi charm a coniglietto simpaticissimi adesso per le creazioni di pasqua anche se purtroppo visto il periodo in cui siamo magari non potremmo fare i nostri mercatini abituali e via dicendo però si può comunque andare avanti a creare anzi io credo che in questo periodo per noi sia indispensabile andare avanti a creare poi qui c'è il codice e sono queste bellissime perline a fogliolina hanno il foro passante adesso ve ne tiro fuori una per farvi vedere bene praticamente qui in punta ecco se non so se riesco a farvelo vedere qui e quindi possono essere messe tranquillamente anche come charme sono veramente veramente carine è un bellissimo verde con queste decorazioni oro proprio carine carine poi sempre sul tipo di quella rossa che vi ho fatto vedere prima l'hanno messe anche in verde e in giallo scusate ma c'è una luce orribile con questo tempo nuvoloso allora questo è il codice per quella gialla e questo è il codice di questa color turchese verde acqua che si abbina comunque con le foglie perché le cose in queste scatole non vengono messe proprio a casaccio perché comunque i colori sono molto abbinabili perché voi se vedete ci sono diversi articoli sul rosso diversi sul giallo altri sul verde poi ci sono queste perline che sono dei piccoli dischi con un foro centrale quindi anche da usare come separatori nei braccialettini estivi molto colorati molto vivi secondo me si possono usare tranquillamente questo è il codice poi ci sono queste qua che sono le dovrebbero chiamarsi will se non sbaglio adesso qui non trovo neanche il il nome anche perché il fogliettino è scritto tutto in inglese io e l'inglese non andiamo moltissimo d'accordo comunque sono anche questi dei dischetti con il foro centrale però non sono completamente piatti vedete hanno queste bombature sui lati quindi anche queste in da usare come separatori o se riuscite anche a fare delle creazioni con perline magari dei fiorellini delle delle cose carine secondo me ci escono poi sempre sullo stesso stile ci sono queste qua che però sono fatte a quadrato e anche queste però sono stondate perché se vedete la perlina non è completamente piatta anche queste rosse però è un rosso satinato questo è il codice e ci sono anche gialle appunto perché vi dicevo che i materiali all'interno della scatola sono molto abbinabili tra di loro quindi stimolano la fantasia stimolano la creatività poi ho trovato queste coccinelline che c'è mamma coccinella con i piccolini e secondo me sono veramente carinissime hanno il foro passante sia queste che quelle più piccole hanno il foro da parte a parte e sono comunque disegnate da entrambi i lati quindi molto carine questi sono i due codici per le coccinelle poi ci sono queste medagliette cioè perline fatte a monetina con dei fiori stampati sopra sono stampate anche queste da entrambi i lati hanno anche questa il foro passante e anche queste qua in braccialettini cose comunque stive molto colorate secondo me ci stanno veramente bene poi altre perline a petalo sul verde questo è il codice ne abbiamo anche sul giallo questo è il codice abbiamo ancora di quelle perline fatte a dischetto ondulate sull'arancione questo è il codice delle bellissime daghe di quelle grandi quindi la misura è il l'11 per no 16 per 5 mm sono queste qua questo è il codice abbiamo le daghe quelle più piccoline su questo giallo così questo è il suo codice abbiamo i dischetti anche nel verde è un verde molto più tenuo di quello che vedete in video è perché purtroppo non ho un'ottima luce e non riesco neanche a farvelo vedere comunque è molto più chiare più un verdino pistacchio ma nei toni pastello poi 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 abbiamo altri due charm a cuoricino però questi intorno ai disegni hanno l'effetto ossidato e sono molto carini anche questi qua questo qui è il loro codice abbiamo delle altre daghe di quelle grandi quindi sempre da 16 per 5 anche questo verde è molto meno acceso di quello che voi lo state vedendo in questo momento questo qui diciamo che più un verde olivastro ma sempre nei toni pastello poi ci sono sempre come daghe grandi queste che sono trasparenti verde trasparente questo qui è il codice poi ci sono queste simpatiche perline a melone infatti si chiamano proprio le melon beats anche queste sul verde oro quindi abbinabilissimi come vedete alle daghe ai dischetti a tutto ciò che abbiamo visto fino adesso e poi ci sono questi fiorellini che sono stupendi e hanno anche questi qua il foro passante se voi vedete aspettate che magari ve ne tiro fuori una così riesco a farvela vedere bene sono così hanno una misura di circa penso che saremo intorno agli 8 millimetri sì esatto sono da 8 mm hanno il forellino passante da una parte all'altra e sono molto molto carine secondo me anche su delle creazioni a su tagio video broderi secondo me si possono usare tranquillamente e questo è tutto ciò che c'era all'interno della scatolina spero di esservi stata utile andate comunque a dare un'occhiata su questo meraviglioso sito che vi faccio rivedere e dove caspita è finito eccolo qua e niente quindi vi rimando al prossimo video in cui cercherò di utilizzare qualcosa di questi materiali per fare una creazione e poi ve la mostrerò un bacione a tutte vi ringrazio e mi vi raccomando restate a casa e fate le brave ciao